Perché Sanremo è Sanremo! Doc! Lo abbiamo detto, lo abbiamo chiesto a Matteo Amantia dell'ex Sugarfree lo abbiamo detto a Massimo Morini grande direttore d'orchestra del festival di Sanremo lo abbiamo chiesto al grande, veramente grande cuoco di Masterchef ieri lo abbiamo chiesto anche a Yaya De Rose oggi lo chiediamo anche ai Jelis! Tu non puoi! Mi applaudi pure le mani Ma tu non puoi fare una roba del genere Capito perché saltano sempre le casse qua Ho fatto sta stupidaggine, ma dobbiamo nassene Ma lo pagate? Amici di Generazione di Fenomeni Non sta bene sto ragazzo Possiamo andare? Finito Perché Sanremo è Sanremo Doc Perché Sanremo è Sanremo Doc Doc Perché Sanremo è Sanremo Doc Grazie a tutti.